Se vado in merceria e chiedo un reggiseno o una maglietta color carne, me li propongono di quel rosa beige. A me. Cambiare la definizione del termine color carne per richiamare l'attenzione sui temi riguardanti il colore della pelle e sul rispetto delle differenze. È la campagna nazionale di sensibilizzazione portata avanti dall'azienda pratese di consulenza strategica Bold Stories, gestita dalla pratese Giuditta Rossi e dalla milanese Cristina Maurelli. L'idea è nata per caso durante un dialogo sull'abbigliamento, comprendendo come il termine color carne, riferito esclusivamente alla rosa, non sia inclusivo e adeguato per rispettare tutti i colori della pelle umana. Da qui la decisione di portare avanti una campagna mediatica che vuole cambiare colore al color carne. Proprio così, parlando di aviti, un giorno mi diceva sotto questo avito dovresti metterti un po' un reggiseno color carne. Io mi sono fermata, lei si è fermata, ci siamo guardate e un po' imbarazzate siamo scoppiate a ridere, no? Perché di fatto color carne, ma color carne di chi? Quindi abbiamo proprio capito l'assurdità del termine, abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa. La campagna intende allargare il dibattito in tutta Italia, sensibilizzando non solo le persone, ma invitando gli editori e i brand a fare un piccolo ma significativo passo, cambiando il loro vocabolario e magari pensando a nuovi prodotti inclusivi. E a proposito di vocabolari, si prende a modello l'esempio inglese come emblema di inclusione. I principali dizionari vocabolari italiani dicono che color carne è un colore rosa pallido, simile a quello della carne umana. Quindi la domanda è stata, ma color carne umana, no? Solo rosa? E questo fatto di color carne uguale rosa presuppone, spesso inconsciamente in realtà, che la pelle di una persona bianca sia la norma. E quindi questa norma va aggiornata, va cambiata, perché evidentemente non è così. Sul nostro sito colorcarne.it, dove si trovano tutte le informazioni, abbiamo anche riportato quello che già i dizionari in lingua inglese fanno, ossia apporre un avviso che segnala come questo termine ormai non sia più inclusivo, non sia più rappresentativo di tutta una serie di persone all'interno della nostra realtà.